Io consiglio il corso appunto a tutte le figure professionali che possono girare intorno a un e-commerce. Lo consiglio a imprenditori che vogliono capire come approcciare a Magento e lo consiglio anche a valdetti ai lavori come me perché è bello anche per confrontarsi, trovare altre idee. Ovviamente consiglierei questo corso a tutte le persone che vogliono approfondire la loro conoscenza sull'azienda. A chiunque si occupa di e-commerce, a qualsiasi livello, dallo sviluppatore al manager a chi gestisce il CEO. Ora lo consiglierei a chi vuole intraprendere un'attività di e-commerce, sia come proprietario dell'e-commerce, sia a chi deve sviluppare l'e-commerce. Sicuramente dedicato a risorse di tipo tecnico e di sviluppatori. iscriviti al canale. Ciao! Ciao! Ciao!